Allora, prima di iniziare con il video di oggi vi voglio ricordare che potete acquistare il mio libro Cosa guardo? Un'emozione del cinema, edito da Salani, che è una guida su film e serie da guardare in base allo stato d'animo nel momento, sia in tutte le librerie che su tutti gli store online in descrizione trovate il link per acquistarlo da Amazon e ve lo consiglio perché siamo ancora in estate però tra qualche settimana diciamo che si tornerà alla vita di tutti i giorni, arriverà l'autunno e sicuramente vi ritroverete più spesso magari a stare in casa la sera senza sapere che cosa guardare e qui trovate la soluzione ai vostri dilemmi, quindi se vi interessa potete acquistarlo peraltro grazie perché gli state dando un supporto incredibile, veramente grazie di cuore e poi vi ricordo che sul sito di Pampling che trovate linkato e lo descrivete qui sotto trovate i saldi con gli sconti del 19% su tutto il catalogo, con le magliette scontate fino a 6,90€ quindi le potete pagare dai 6,90€ in su, ci sono poi di tutti i prezzi e se spendete dai 19€ in su non pagate le spese in spedizione e poi a prescindere da quanto spendete ad ogni vostro ordine vi verrà consegnato un omaggio che può essere un cappellino, una borraccia di metallo insomma oggetti di questo tipo, ci sono un sacco di magliette veramente belle vi consiglio di dare un'occhiata al catalogo perché le troverete per tutti i gusti tutte rigorosamente a tema nerd e come sempre se è il vostro acquisto aggiungete un po' le calze a vostra scelta, usate il codice VILASZLO le calze non le pagate, quindi se vi interessa sapete cosa fare allora però vanno le cianci e iniziamo subito con il video di oggi sigla allora in questi giorni non sapevo bene che video fare perché ci sono tante cose da recuperare però magari sono cose un po' più di nicchia e quindi non sapevo dove andare a pescare devo ad esempio portarvi il video sulla seconda stagione di House of the Dragon in generale vi avevo promesso che l'avrei fatto e lo farò devo registrarlo prima di venerdì perché venerdì poi parto per Venezia e torno martedì stola giusto qualche giorno e quindi insomma non sapevo bene cosa fare poi mi sono ricordato che c'è una serie di cui non avevo ancora parlato e che secondo me vale la pena di essere discussa mi riferisco ovviamente a Batman Caped Crusader che trovate su Prime Video una serie animata su Batman di 10 episodi che avevamo rischiato di non vedere perché ci sono dei grandissimi nomi coinvolti nella produzione di questa serie tra cui quello di Bruce Thiem che è lo storico creatore della serie degli anni 90 con cui io e tanti altri siamo cresciuti e quindi già solo per la presenza di Thiem a me il prodotto interessava poi c'è G.J. Abrams e anche Matt Reeves e la presenza di Matt Reeves è importante perché come sapete lui sta gestendo il Batverse quello con protagonista il Batman di Pattinson per cui il fatto che ci sia lui di mezzo a un prodotto su Batman che per l'amor di Dio non è collegato a quello perché è una serie completamente diversa significa sicuramente qualcosa e abbiamo rischiato per appunto di non vederla perché nonostante il progetto fosse forte l'uscita su Max è stata bloccata dopo qualche mese dall'annuncio e sembrava che la serie non sarebbe mai andata in onda hanno poi deciso di metterla in vendita a miglior offerente per fortuna è arrivata Prime Video che ha acquistato la serie e l'ha inserita sul catalogo e da quello che so non sta andando neanche male è uscita qualche settimana fa io poi sono andato in vacanza e quindi non avevo voglia di guardarmela sul telefono per cui ho aspettato di tornare per finirla perché l'avevo iniziata avevo visto i primi due o tre episodi però poi mi ero fermato perché ero dovuto andare via quindi ero molto curioso di vedere come sarebbe proseguita e devo dire che io sono rimasto estremamente soddisfatto ci sono state diverse lamentele circa questa serie tra cui quelle al politicamente corretto che io ormai trovo di una sterilità a dir poco imbalazzante perché ad esempio nel primo episodio c'è il pinguino che però non è il pinguino a cui siamo abituati perché è Oswalda Cobblepot quindi è la pinguina se vogliamo è una donna e in molti questa mossa non l'hanno apprezzata ma perché inserire una donna ma perché bisogna sempre rovinare tutto io francamente l'ho trovato geniale il fatto di rendere Oswald Cobblepot Oswalda Cobblepot anche perché le hanno affiancato questi figli idioti che rendono la dinamica con lei molto più interessante poi compare solo in quella puntata ma non mi ha minimamente dato fastidio anzi io adoro quando si prendono personaggi che ormai sono stati reinterpretati in tutte le salse e si riesce a fare qualcosa di nuovo anche perché tra un paio di settimane uscirà la prima stagione di The Penguin la serie dedicata al pinguino interpretato da Colin Farrell quello che abbiamo visto in The Batman e quella sì che è collegata ai film di Matt Reeves e infatti è prodotta da lui stesso quindi voglio dire non mi sembra che siamo a corto di varianti e variazioni sul tema per quanto riguarda questo personaggio per cui che me lo abbiano trasformato in una donna per me è solo una cosa buona perché almeno hanno potuto raccontarci qualcosa di diverso rispetto al solito su questo personaggio ma hanno fatto delle cose secondo me veramente eccezionali con questa serie perché innanzitutto riprende molto le atmosfere di quella degli anni 90 ma è diversissima perché quando io da bambino guardavo quella serie rimanevo molto inquietato riguardando adesso è invecchiata benissimo questa però si spinge anche oltre perché quella era una serie per bambini con elementi adulti questa è una serie con molti elementi adulti che volendo possono anche guardare i bambini non senza rimanere un minimo inquietati anche perché molto di più rispetto a quella qua si vedono tanti morti ammazzati certo con la violenza ridotta al minimo non aspettatevi lo spargimento di sangue però ci sono tante persone che muoiono a schermo e questo me la fa stare ancora più simpatica perché hanno utilizzato quelle tecniche che si utilizzavano negli anni 30-40 quando si era in pieno vigore del cosiddetto codice ACE ovvero un codice che era stato presentato da questo deputato ACE che limitava di molto la violenza l'uso degli alcolici e di tutto ciò che era considerato immorale nei film e nelle serie ma più che altro nei film e ad esempio Scarface di Howard Hughes quello da cui poi Brian De Palma avrebbe tratto il suo film con Tony Montana interpretato da Al Pacino era un film straordinario e Hughes avrebbe voluto che Tony Camonte il protagonista morisse sul finale su un mucchio di letame per via del codice ACE quello non si poteva fare infatti quando si era in pieno codice ACE si cercava di mostrare magari il morto ammazzato ma dopo che il colpo di pistola era stato sparato magari non te lo facevano vedere morire direttamente e già Scarface era un film che eccedeva molto in quello infatti avrebbe molti problemi quando uscì nelle sale perché cercò di aggirare il codice ACE ma ci riuscì fino a un certo punto insomma era molto più violente di quello che sarebbe dovuto essere comunque sia il discorso è proprio questo nel senso che ci sono i morti ammazzati ma magari li vedi stramazzati solo dopo che il colpo è stato sparato off screen hanno un po' voluto giocare con la messa in scena e ci sono riusciti molto molto bene con delle animazioni secondo me un po' particolari perché ho sentito tanti lamentarsene posso capire come mai perché di fatto è una serie che ha delle animazioni molto legnose quando i personaggi corrono sono anche un po' ridicoli perché si muovono in maniera molto scattosa ma non credo che questo sia da imputare a incapacità degli animatori oppure a mancanza di esperienza o ancora a una carenza di budget io credo semplicemente che sia una scelta è una scelta stilistica che può sicuramente piacere come no ma non credo che ci sia di mezzo altro cioè semplicemente la volevano così ed effettivamente questo stile si sposa benissimo con le atmosfere e i toni di questa serie perché come dicevo è profondamente noir peraltro ci sono persone che si sono lamentate di una cosa che mi ha fatto morire da ridere ho letto anche su certi gruppi e pagine instagram americani la gente che si lamentava del fatto che non ci fosse Kevin Conroy al doppiaggio e io ho pensato beh se fossero riusciti a riprendere Kevin Conroy per dare la voce a Batman avrei avuto delle domande per la produzione visto che il povero Kevin Conroy è venuto a mancare non troppo tempo fa per cui hanno preso un altro voice actor Emish Linklater che secondo me è stato bravissimo anche in italiano non è tornato balzarotti perché probabilmente volevano distaccarsi dalla serie originale e non essendoci più con Roy hanno deciso di dare la voce di Batman a qualcun altro e devo dire ho visto qualche puntata in italiano il doppiaggio mi è sembrato buono è stato sicuramente un buon doppiaggio le voci americane sono perfette anche se mi aspettavo tante guest star che non ci sono state ma onestamente non è un problema e rispetto alla serie degli anni 90 che era ambientata in una Gotham City molto cupa molto noir ma comunque contemporanea questa serie è ambientata negli anni 30 perché hanno voluto rifarsi direttamente ai primissimi fumetti creati da Bob Kane dal 39 in poi e quindi hanno voluto ambientarla palesemente nel passato e quindi vediamo trasmissioni telefoniche bianco e nero tecnologie molto vetuste quasi retrofuturiste per l'epoca perché Batman usa delle tecnologie che ovviamente all'epoca non è che esistessero realmente quindi nei confronti di quell'epoca sono retrofuturistiche perché utilizzano marchi ingegni degli anni 30-40 che però sono capaci di cose che in quell'epoca non potevano esistere ma ci sta perché è Batman perché Bruce Wayne ha a disposizione un capitale enorme quindi ci può stare che abbia dei marchi ingegni più avanzati di quelli che si potevano trovare all'epoca semplicemente perché ha pagato per far avanzare le tecnologie e le ha solo lui quindi a me questa cosa va benissimo poi ci sono delle scelte che cozzano un po' con l'epoca come ad esempio Gordon che è nero ed è commissario di polizia una cosa che difficilmente sarebbe stata possibile negli anni 30-40 così come sua figlia Barbara nera anche lei che è un avvocato anche lì molto molto raro e improbabile o Montoya che è un'ispanica detective anche qui non lo so quanto sarebbero state tollerate cose del genere ma sostanzialmente credo che si possa anche sbatterse nei coglioni ecco non è una serie che vuole il realismo su questo non ci piove è una serie su Batman anzi ci sono state delle puntate un paio in cui Batman ha a che fare con fenomeni sovrannaturali si parla addirittura di fantasmi sulle prime stavo per storcere il naso poi però mi sono ricordato che in realtà se andate a guardare i fumetti Batman con il sovrannaturale molto spesso ha come a che fare infatti nella puntata del fantasma non entro troppo nei dettagli prima di fare spoiler c'è anche Linton Midnight che è un personaggio che è tipico di Hellblazer c'è un personaggio che compare spesso in Hellblazer ovvero Constantine le storie riguardanti Constantine che è un personaggio che spesso ha interagito con Batman quindi non è stato per niente infrequente che Batman abbia avuto a che fare con il sovrannaturale c'era anche una run che era un Elseworld ovviamente in cui Batman era un vampiro per dirvi quindi francamente la cosa non mi ha fatto storcere il naso più di tanto è solo che arrivava dopo parecchie puntate in cui l'elemento sovrannaturale non c'era c'erano cose grottesche bizzarre come piacciono a me ma non era ancora arrivato l'elemento sovrannaturale ma in realtà con questa serie hanno voluto fare qualcosa di molto diverso rispetto al solito hanno voluto cercare di riprendere il più possibile i fumetti soprattutto quelli delle origini in cui c'erano cose parecchie strane io ricordo nella Silver Age una storia di Batman in cui veniva intrappolato in un flipper gigante per dirvi ci sono state delle cose veramente strane nei fumetti di Batman e quindi la serie riflette questo ma secondo me sono stati in grado di rendere il tutto molto interessante e sono stato anche contento che abbiano puntato a volte anche su Villain meno conosciuti come Firebug che probabilmente conosciamo io e altre 12 persone peraltro reso benissimo e è dalla puntata di Firebug in poi che ho capito che la serie osava osava perché ci sono spesso epiloghi molto tristi ci sono personaggi che fanno una fine orribile quindi mi è piaciuto perché è una serie che parte un po' in sordina nel senso che mi sembrava una serie di quelle con le puntate autoconclusive poi in realtà mi sono reso conto che di puntata in puntata c'erano situazioni che si sviluppavano e continuavano a svilupparsi quindi ogni puntata è il cosiddetto caso della settimana quindi la storia autoconclusiva dentro la quale però ci sono elementi per una macro trama che si sviluppa piano piano per poi esplodere negli ultimi due episodi io credo che la cosa migliore l'abbiano fatta con due facce Harvey Dent in questa serie è secondo me reso benissimo rendono perfettamente il suo dualismo e danno il giusto ruolo a Batman in questa faccenda perché sono tante le versioni della trasformazione di due facce qui hanno ripreso quella più classica e in un certo senso mi piace perché il dualismo di Harvey Dent e quindi di due facce va poi a ripercuotersi sulla psiche di Bruce Wayne il quale si rende conto che anche lui è in una situazione di dualismo che gli sta sfuggendo di mano mi è piaciuto molto ad esempio il rapporto con Alfred che qui e qua c'è una bella strizzata d'occhio è un ibrido a livello estetico tra il primo Alfred che era cicciottello e biondo e l'Alfred più azzimato con i baffetti e il riporto cioè qui è una fusione è quell'Alfred Lee ma corpulento perché perché in realtà l'Alfred che conosciamo il maggiordomo inglese con il riportino e i baffetti un po' magro e austero deriva dal film degli anni 40 in cui Batman era un agente del governo che era una cosa che con Batman c'entrava molto molto poco ed era un film assolutamente propagandistico perché eravamo in piena seconda guerra mondiale quell'Alfred però aveva l'aspetto che conosciamo oggi non c'entrava niente con l'Alfred dei fumetti solo che piacque talmente tanto che da lì in poi anche nei fumetti assunse quell'aspetto per cui ci sono state varie contaminazioni quando si dice che a volte la trasposizione cinematografica televisiva tende a influenzare la controparte originale è capitato un sacco di volte ricordo ancora quando uscì Spider-Man 2 di Rami che per un periodo nei fumetti Octopus indossava il giaccone che aveva Alfred Molina nel film quindi è una cosa che capita in realtà spesso pensate anche solo a Wolverine Wolverine è sempre stato un tappetto tutto gobbo da quando lo ha interpretato Hugh Jackman anche nei fumetti era iniziato a diventare parecchio più alto e dritto con la schiena e ancora più grosso quindi ci sono queste influenze stessa cosa per Iron Man da quando era diventato il beniamino del pubblico nell'MCU i fumetti influenzano la trasposizione la trasposizione spesso influenza i fumetti quindi mi piace che ci sia la citazione anche all'Alfred degli inizi e è bello vedere che abbiamo un Bruce Wayne che inizia a perdere un po' di vista quello che è il suo obiettivo lo vediamo profondamente traumatizzato da quello che è accaduto c'è una sola puntata in cui si fa riferimento a quanto accadda all'uccisione dei coniugi Wayne ma è una puntata stratosferica perché quei flashback sono secondo me resi alla perfezione a me sembra una serie molto più pensata per chi è stato bambino quando uscì quella degli anni 90 è Bruce Wayne che ti dice vi ho cresciuti con quella serie adesso vi riaccolgo da adulti quale siete quindi è una serie molto più per adulti che per bambini e l'ho trovata veramente eccezionale poi sicuramente ha delle problematiche le animazioni possono essere effettivamente poco interessanti per alcuni anche se per me i colori i modi in cui giocano con i chiari scuri sono fantastici oppure posso capire che magari la rapidità con cui le storie sono raccontate può far storcere il naso io ci sono abituato perché comunque ti devono condensare alcune storie molto più complesse nel giro di 20 massimo 25 minuti quindi la narrazione è sempre velocissima spesso e volentieri si sacrifica un passaggio di approfondimento in più per poter arrivare subito alla risoluzione finale che è una cosa che può essere un difetto ma che per me è proprio parte integrante della costruzione narrativa di una serie con questo formato di episodi e di minutaggio per me è una cosa normalissima non è tanto diverso da quello che veniva fatto nella storica serie degli anni 90 però capisco che ad alcuni possa dar fastidio ma per il resto io di grossi difetti non è che ne ho trovati magari avrei speso un paio di puntate in meno che sono propriamente dei filler cioè che si potevano magari anche evitare e avrei magari inserito qualche personaggio interessante in più ma è anche vero che è un esperimento non sapevano come sarebbe andata volevano tenersi magari alcuni dei personaggi più interessanti per un'eventuale seconda stagione ad esempio ve lo posso dire il Joker non è un personaggio di questa stagione c'è un riferimento sì però non aspettatevi episodi in cui il villain e il Joker perché non ce ne sono molto semplicemente e secondo me hanno fatto benissimo hanno fatto benissimo perché il Joker è un personaggio che è stato ampiamente sfruttato e quindi non lo hanno messo subito se si spera faranno una seconda stagione lo vedremo al 100% questo è chiaro però ho apprezzato il fatto di non partire subito in bomba dando il Joker dando che so Mr Freeze e roba varia hanno voluto iniziare magari prendendo altri personaggi però già che c'è due facce che è importantissimo a me piace molto e tra l'altro hanno anche trattato in maniera secondo me interessante la questione del lancio della moneta non hanno voluto renderlo centrale per il personaggio e in questo senso a me è sembrata la gestione di due facce molto più simile a quella di Christopher Nolan è un due facce molto più realistico rispetto a quello che abbiamo visto in altri prodotti come ad esempio la stessa serie degli anni 90 dove era un personaggio molto più grottesco molto più camp se vogliamo qua è quasi realistico il modo in cui è stato sfigurato mi ha ricordato quello di Christopher Nolan anche le motivazioni non sono proprio quelle però c'è un elemento che è importantissimo in questa serie che è quello della corruzione a Gotham City ad esempio c'è un personaggio che era un po' il beniamino dei bambini nella serie degli anni 90 che era Bullock che era una sorta di quasi comedy relief era un poliziotto burbero qua invece è un poliziotto corrotto insieme a Fless che è uno storico personaggio di Batman che veniva raccontato molto bene da Frank Miller in anno 1 e quindi Bullock che Fless sono due poliziotti corrotti che fanno cose veramente malvagie cattive non sono due Gaspare Orazio dei miei coglioni che magari fanno pasticci no no questi sono veramente cattivi questi prendono soldi per coprire i criminali per ammazzare le persone per cancellare le prove sono proprio delle merde vere quindi mi ha sorpreso vedere un prodotto animato in cui si veda però tutta quanto tutta quanta la corruzione tutto quanto il marcio che inquina Gotham City vedere un Batman che sull'orlo della follia ha un passo dal dimenticarsi la promessa che si è fatto quella di non diventare mai un mostro quella di non superare mai quel limite che lo separa dai criminali perché lui non è un criminale lui combatte i criminali ad armi pari con la differenza che non li ammazza ma c'è una scena soprattutto sul finale che riprende direttamente una cosa che faceva Batman nelle primissime storie di Bob Kane che a me ha messo i brividi ve lo giuro io ero lì che dicevo ma come cazzo come hanno fatto a fare una cosa del genere è una serie estremamente audace posso capire come mai avessero dei dubbi sul mandarle in onda su Max perché secondo me avevano paura che se fossero andate in onda su un canale ufficiale di Warner eccetera sarebbe stato un po' troppo perché è una serie animata che però è estremamente adulta quindi da quel punto di vista io un po' li posso capire se ancora non avete guardato Batman Capet Crusader dovete assolutamente farlo tra l'altro io adoro il fatto che abbiano ripreso lo stile del costume del primo Batman con le orecchie lunghissime che sembra quasi un vampiro con Bruce Wayne che ha un po' i tratti alla bella lugosi perché il primissimo Bruce Wayne doveva sembrare Dracula perché Batman era l'uomo più epistrello quindi i riferimenti ai vampiri nelle primissime uscite di Batman si sprecavano quindi è stato audace riprendere un'estetica molto vicina alle origini del personaggio non veniva fatto da tantissimo tempo ma veramente veramente tanto 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 tempo e secondo me hanno lavorato tutti al massimo delle loro possibilità e ringrazio il team che ha creato questa serie perché mi ha fatto tornare bambino non solo ai momenti in cui guardavo la serie di Bruce Team ma anche a quelle in cui leggevo i fumetti di Batman perché veramente per un appassionato del Batman televisivo e del Batman fumettistico questa serie è oro allo stato puro quindi mi sono dilungato un po' con la parte non spoiler perché c'era tanto da dire stavolta potevo dire tanto senza addentrarmi troppo ma adesso scenderò un po' più nel dettaglio per dirvi di preciso cosa mi è piaciuto e cosa magari non mi è piaciuto particolarmente quindi se non avete visto tutta quanta Batman Caped Crusader non proseguite con la visione del video siete avvisati allora mi è piaciuta molto come dicevo la gestione di Oswald Cobblepot il fatto che non si faccia problemi ad ammazzare i figli io ci sono rimasto perché comunque sai vedi questa serie vedi che ci sono delle cose che potrebbero essere date ai bambini e poi vedi Oswald Cobblepot che fa gettare il figlio in mare legato cerca di ammazzare l'altro ha fatto installare un cannone sulla nave dove c'è l'iceberg lounge il suo bar e con quel cannone spara e terrorizza Gotham City e distrugge la centrale di polizia ad un certo punto nella prima puntata la cattiva comunque riesce a distruggere la centrale di polizia io guardavo e dicevo ammazza sono matti pensiamo alla puntata di Basil Carlo anche la puntata di Basil Carlo è interessante perché è un Clayface molto più simile a quello delle sue prime apparizioni con la sciarpetta sembra quasi più la spaventapasse che Clayface non è l'ammasso merdoso argilloso che si scioglieva che abbiamo visto in molte uscite dei fumetti e in molte in alcune puntate della 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 serie storica quindi tra l'altro è Basil Carlo che era ovviamente diciamo ispirato a Boris Karloff lo storico attore dei film horror all'epoca definiti di serie B quello che interpretava la mummia per intenderci ma non solo qua funziona anche di più perché siamo negli anni 30 quindi questo Basil Carlo è nettamente la controparte di Boris Karloff e vediamo che questo povero Cristo è talmente bullizzato per via del suo aspetto per cui può interpretare solo i villain che a un certo punto accetta di fare questo trattamento per modificare i connotati ma è un trattamento che trasforma la pelle in una sorta di argilla malleabile e allora inizia ad ammazzare le persone che lo hanno bullizzato di più per poter conquistare quest'attrice di cui si è innamorato e con cui ha lavorato spesso c'è sempre quell'aura patetica intorno ai villain che è una cosa tipica di Batman i villain di Batman sono sempre patetici sono sempre degli emarginati che sono stati spinti dalla società a diventare i mostri che loro stessi hanno creato pensiamo al pinguino anche questo Sualda Cobblebot è donna quindi donna negli anni 30 deve farsi temere particolarmente in quanto donna perché se no non verrebbe presa sul serio come criminale allora è talmente spietata che addirittura non guarda in faccia nemmeno ai figli una roba che io quando l'ho vista ho pensato minchia Basil Carlo è talmente è talmente sfottuto per via del suo aspetto perché non si integra in una società di snob medio borghesi che finisce con l'impazzire e perdere la propria identità anche a livello proprio somatico a livello di connotati pensiamo a Firebug la storia di Firebug è di una tristezza terribile perché ad un certo punto la polizia deve cercare di catturare Batman perché Batman inizia a diventare un problema e allora Arlene Quinzel propone di usare come esca uno di quei pazzi in costume che sono cicciati fuori da quando Batman è in attività perché ricordiamoci che molti dei nemici di Batman nascono per emulazione di Batman non tutti per l'amor di Dio ma ad esempio il Joker è un po' quella roba lì è sempre stato l'altra faccia della medaglia ma non solo lui tutti questi pazzi in costume sono usciti fuori da quando Batman ha iniziato a fare il vigilante mascherato come se avesse in questo modo legittimato altri matti perché comunque ricordiamoci che Bruce Wayne è pazzo cioè Bruce Wayne è una persona che non ha mai processato il trauma della morte dei suoi genitori e la sua soluzione per non andare totalmente fuori di testa è travestirsi da pipistrello e malmenare i criminali di notte non sta bene di testa Bruce Wayne non è una persona equilibrata uno che fa così adesso siamo nella finzione quello che volete però Alfred cerca di farglielo capire a più riprese cerca di dirgli guardi che lei sta perdendo la brocca sta iniziando a non comprendere più qual è il limite e Firebug quindi viene liberato dal carcere da Fless e Bullock che fingono di trasferirlo e in realtà fanno in modo che lui recuperi perché glielo fanno trovare in macchina il costume questo costume con questa bombola di propellente con cui lui lanciava le fiamme da questi ugelli sui polsi e questo poveretto sta male lo vedi che è pazzo dovrebbe stare a Arkham invece l'aveva messo in cella lo liberano da fuoco a un palazzo e ti fanno capire che muoiono delle persone tra l'altro Bullock per evitare che questo parli gli spara e questo vola giù dalla finestra ma siccome Bullock viene fotografato dopo che ha fatto questo non è che viene detto ah Bullock ha ammazzato ha ammazzato Firebug bisogna incarcerarlo no è un poliziotto eroe poliziotto eroico uccide Firebug perché ferma Firebug è pesante come cosa in una serie animata che io pensavo fosse anche per bambini è molto pesante come cosa peraltro c'è questa scena bellissima con Gordon che non sa cosa fare perché Gordon lui ha capito che Batman non è un pericolo e che anzi può essere un potente alleato per la polizia ma il sindaco Jessop che è sotto elezioni perché Harvey Dent si è candidato a sindaco vuole che Batman venga allontanato perché l'opinione pubblica lo detesta e quindi lui deve seguire l'opinione pubblica per cui che cosa succede succede che c'è questa scena con Gordon che vede Batman nel palazzo in fiamme gli punta la pistola Batman si gira e ha in braccio due bambini che ha appena salvato ed è lì che Gordon capisce che Batman non è cattivo che è solo uno spauracchio quello di doverlo catturare e questa cosa mi è piaciuta così come mi è piaciuto il rapporto che hanno Batman e Barbara Gordon che qui non è Batgirl dal momento perché lui si fida di lei perché lei è un avvocato e poi hanno hanno anche dato un buon risalto a Montoya che però ho notato che da un certo momento in poi diventa un personaggio molto più defilato un po' meno importante rispetto a quanto non fosse all'inizio tra l'altro c'è un'altra cosa che secondo me cozza un po' con l'atmosfera anni 30 e il fatto che Montoya e Arlene Quinzel a un certo punto si bacino tranquillamente in pubblico durante un appuntamento che hanno non è una cosa che in quell'epoca sarebbe stata vista di buon occhio quindi è una cosa molto contemporanea però ripeto sti gran cazzi anzi a me è piaciuta questa cosa perché Montoya tra l'altro effettivamente è lesbica se non erro non è la prima volta tra l'altro anche nei fumetti ma anche in Gotham se non erro aveva una relazione con una donna quindi molti hanno detto ah ma perché anche questa cosa qua perché ficca la forza ma nessun ficca la forza Arlene Quin è sempre stata bisessuale Montoya se non sbaglio è sempre stata lesbica quindi non capisco dove sia la forzatura in questo l'unica cosa che mi viene da dire è un po' strano che possono farlo senza problemi negli anni 30 è un po' strano quello però onestamente come avevo detto prima anche sti grandissimi cazzi cioè anzi a me fa piacere che è un prodotto che potrebbero guardare anche i bambini ti facciano vedere con tutta la naturalezza del mondo che non c'è niente di strano in due donne che si baciano e hanno un appuntamento sarebbe anche ora che magari si riconoscessero che sono situazioni di tutti i giorni ma anche se non lo fossero anzi a maggior ragione dovresti far vedere che ci sono queste situazioni basta tenere i bambini sotto una campana di vetro denormalizzando cose che sono realmente all'ordine del giorno basta io sono assolutamente a favore a cose come questa anche perché ripeto è una cosa naturalissima anche molto dolce perché Harley Quinzel in questa versione è interessante perché non diventa Harley Quinn per via di Joker ma è Harley Quinn peraltro con un costume giallo sempre da giullare perché è una terapista che prende i ricchi bastardi di Gotham che sfruttano le persone e li trasforma in dei bambinoni troppo cresciuti che giocano a giochi per bambini nella speranza di ottenere la libertà perché Harley segrega in questa prigione che ha in cantina nella sua villa quindi anche questa mi è piaciuta come cosa una origin story di Harley Quinn che non ha niente a che fare con la versione che abbiamo sempre conosciuto cioè di lei che impazzisce a causa di Joker innamorandosi di lui e iniziando questa relazione che definire tossica sarebbe un complimento quindi mi è piaciuto vedere una versione diversa di Harley Quinn così come ho adorato la versione di Harvey Dent adesso ci arriverò ma prima volevo soffermarmi sulle due puntate sovranaturali quello del fantasma e quella della bambina che assorbe l'energia delle persone attraverso la bocca allora a parte il fatto che in quella puntata c'è una bambina dell'orfanotrofio con i capelli rossi e gli occhiali che è bravissima con la fionda ora sarò pazzo io ma secondo me no quella è chiaramente una reinterpretazione del Robin del ritorno del Cavagliere Oscuro che era una ragazza molto abile con la frombola io quando ho visto quella cosa ho detto vi prego ditemi che nelle prossime stagioni lei diventa Robin secondo me Robin è lei è ancora piccola quindi deve passare del tempo ma secondo me ce l'hanno introdotta senza troppe cerimonie ma è palesemente lei Robin secondo me se vanno avanti con questa storia il Robin di questo mondo è quella ragazza lì che adesso è ancora una bambina nel ritorno del Cavagliere Oscuro era piccola comunque aveva tipo 15-16 anni quindi secondo me quella è Robin sono convintissimo di questo perché ha anche lei i capelli rossi gli occhiali secondo me è lei anche la puntata del fantasma dove compare Linton Midnight anche nella serie di Bruce Tinker è il sovrannaturale ragazzi Man But fa comunque parte del sovrannaturale Clay Face fa comunque parte del sovrannaturale ragazzi uno si trasforma in un pipistrello gigante quell'altro si trasforma in questa specie di creta di argilla mutaforma cioè è ovvio quello era sovrannaturale gli davano una spiegazione parascientifica ma è roba inverosimile quindi non è una cosa così strana secondo me la cosa del fantasma ci può stare ma non te l'hanno messa a caso ti hanno messo di mezzo Linton Midnight una sorta di stregone che a un certo punto dà a Bruce una provetta speciale per intrappolare un fantasma e quando il fantasma si accorge di essere stato intrappolato e che la provetta viene data Linton Midnight implora di liberarlo perché non vuole stare con quell'uomo per cui non è che è una puntata con il sovrannaturale basta no è una puntata che ti fa capire che proprio in quel mondo il sovrannaturale esiste io ci avrei messo dentro anche Constantine che è una cosa che fanno spesso nei fumetti di Batman spesso per giustificare il sovrannaturale ti fanno arrivare un altro personaggio che ha proprio le storie che fanno parte di cui il sovrannaturale fa parte integrante però non mi ha dato fastidio se non ci fosse stato Linton Midnight sarebbe stato fuori dal nulla ma facendoti vedere che c'è questo personaggio misterioso ti fanno capire che in realtà non c'è niente di strano in quello che ti stanno mostrando anche quella di Natalia quella di Natalia già è più vicino a quello che dicevo prima con Man Bat e il Clayface della serie della prima serie è una bambina che ha una malattia che è stata curata con metodi scientifici da questo fratello scienziato pazzo e quindi ha sviluppato questa cosa che assorbe l'energia dalla bocca delle persone però già c'è una spiegazione pseudoscientifica parascientifica ok però boh onestamente non mi hanno dato fastidio queste cose perché poi si arriva alla cosa di Harvey Dent che invece mi è piaciuta da morire con Harvey che per tutta la stagione vuole diventare sindaco è un giovane procuratore spregiudicato che è conscio della corruzione ma non vuole farne parte lui vuole cambiare la città solo che a un certo punto sta perdendo terreno nei sondaggi e arriva Thorne questo criminale di Gotham City che gli offre i suoi servigi si offre di finanziare la campagna e lui alla lunga accetta perché si rende conto che non potrà mai cambiare le cose se non diventa sindaco ma quando viene il momento di fare un favore a questo criminale e di scagionare una persona ovviamente colpevole uno dei suoi uomini Dent si rifiuta perché ritrova la sua integrità e dice non mi interessa se ho preso i suoi soldi io non voglio essere corrotto e quindi qua c'è la classica origin story due facce con il criminale che manda il suo scagnozzo a sfigurarlo con l'acido da lì Harvey inizia a maturare questa doppia personalità è convinto che tutti ridano di lui Bruce prova a farlo uscire ma in realtà Bruce vuole solo vederci più chiaro vuole capire chi è stato e quindi sfrutta la sua amicizia con Harvey lo fa uscire troppo presto ed è da lì che inizia a sviluppare la seconda personalità malvagia perché Bruce in un certo senso senza volerlo lo mette in imbarazzo e Alfred lo riederguisce dice guardi che lei l'ha spinto al limite stasera sta attento quando poi Harvey inizia a uccidere perché diventa due facce Bruce si sente terribilmente in colpa perché dice forse se io non l'avessi forzato a uscire non sarebbe uscita così all'improvviso questa parte in realtà non è del tutto colpa di Bruce Wayne però è lì che Bruce si rende conto che ha superato quel limite perché Harvey inizia a uccidere le persone che gli hanno fatto del male tra l'altro c'è questa c'è questa scena in cui dà fuoco al tizio che lo ha sfigurato che non ti non ti mostrano nulla ma è bellissimo il modo in cui te lo fanno ti fanno sentire l'urlo di questo che muore è crudele cioè questo è un Harvey crudele peraltro con la faccia tutta bucata mezza sciolta molto meno cartunesco del due facce della serie storica che aveva la faccia blu con i denti gialli era proprio grotteschissimo sembrava di più quello che avremmo visto poi qualche anno dopo con Tommy Lee Jones in Batman Forever che era molto ispirato a quella versione del personaggio per cui francamente ho preferito questa versione più realistica che mi ha ricordato tanto quella di Aaron Eckhart nel Cavaliero Oscuro di Christopher Nolan con lui che in realtà è arrabbiato per la corruzione che c'è Gotham quindi la personalità malvagia in realtà vuole fare quello che fa Batman ma senza risparmiare i criminali ed è lì che Batman si rende conto che forse sta esagerando quando alla fine Harvey Dent riprende per un momento la sua vera identità e Fless spara e lui fa da scudo a Barbara che voleva aiutarlo è lì secondo me che proprio Batman capisce perché prende la pistola e questa è la scena che mi ha fatto venire brividi perché nelle primissime storie di Bob Kane Batman uccideva con la pistola l'idea del Batman che non uccide è arrivata dopo all'inizio era un giustiziere mascherato che sparava con la pistola non per tanto ma nelle prime storie lo faceva ogni tanto e il fatto che prende la pistola e spari a Fless e poi ti accorgi che in realtà gli ha fatto solo la sagoma ha sparato intorno per fargli capire che avrebbe potuto ucciderlo ma lui è diverso lui non lo farebbe mai quella scena è bellissima poi lancia la pistola e ha detto scusa ma non potevi tenerla che magari c'erano le impronte di Fless ma tanto se Bullock è stato promosso perché ha ammazzato Firebug figurati cosa avrebbero fatto a Fless che ha sparato contro un criminale perché in quel momento Harvey Dent era un criminale lui lui poteva tranquillamente sparare sia a Barbara che a che a Harvey Dent dicendo eh questi hanno cercato di spararmi io ho risposto al fuoco solo che adesso c'è testimone Barbara c'era Gordon quindi Fless e Bullock probabilmente finiranno si spera in galera però è bellissimo perché ti fa vedere che Thorne è tutto contento che hanno eliminato Harvey Dent è nella sua poltrona ma un Batalang sfonda il vetro si conficca nello schieno della poltrona e si vede in lontananza la sagoma di Batman con i fulmini che lo illuminano con questo effetto che è una cosa tipica dei fumetti anni 90 che era una cosa che c'è anche nella serie questo effetto sabbiato bellissimo è una cosa fantastica questa cosa è bellissima e l'ultimissima scena dell'ultima puntata sono queste persone in una capanna che muoiono una dopo l'altra con un sorriso stranissimo e tirato sul volto e vediamo una sagoma con una siringa che si fa capire che gli è indiettato qualcosa e vediamo poi una lama di luce che fa vedere questo volto con gli occhi cattivi e la pelle bianca che dice perfect ed è il Joker quindi in questa stagione non c'è stato il Joker ma c'è stata solo una breve introduzione perché arriverà nella stagione successiva peraltro un Joker con una voce profondissima che mi fa impazzire sono curiosissimo di sapere che tipo di Joker sarà perché ogni volta che il Joker arriva ha sempre un'incarnazione diversa quindi per quanto mi riguarda una serie non priva di difetti per carità ma per me bellissima che tutti dovrebbero vedere so che l'animazione spesso blocca un po' non fatevi ingannare guardatela perché davvero ragazzi è una serie strepitosa io vi abbraccio vi ringrazio grazie a tutti qui noi ci vediamo alla prossima mi raccomando fate sapere un conto sotto cosa pensate voi di questo Batman che è per Crusader e noi ci vediamo al prossimo un po' un po' un po' un po' Grazie.